Bentornati amici siamo qui all'interno di Illustrator per scoprire le meraviglie del pannello simboli. Innanzitutto il pannello simboli è questo qui. Nel caso in cui non fosse già presente ovviamente non dobbiamo fare altro che andare sul menu a tendina finestre ed ecco qui il nostro pannello simboli. Nel momento in cui apriamo il nostro pannello simboli ci troviamo già con una serie di risorse precaricate. Nel momento in cui ne prendiamo una e la trasciniamo all'interno del nostro artwork quello che succede è che abbiamo importato quella che si presenta come una risorsa vettoriale. Come potete vedere qui in basso a sinistra nel pannello simboli abbiamo accesso a una libreria all'interno della quale possiamo caricare una grandissima varietà di simboli che Illustrator ci mette a disposizione. Tutto quello che dobbiamo fare è sceglierne uno e trascinarlo all'interno del nostro artwork e immediatamente abbiamo pronta all'uso una risorsa vettoriale di cui possiamo disporre. Andiamo per esempio ad aprire il pannello natura e vediamo che qui abbiamo a disposizione una serie di insetti e di foglie. Come potete vedere questo è un pannello diviso attualmente perché questo qui è il pannello simboli generale mentre questo secondo che ho aperto è il pannello libreria all'interno del quale le librerie che ho aperto rimangono caricate. Queste risorse possono essere importate nel mio pannello simboli generale finiscono automaticamente all'interno di esso se io ne prendo una e la trascino nel mio documento come potete vedere quindi in questo momento io posso prendere un po' di risorse e metterle sia nel mio documento sia nel mio pannello simboli e qui rimarranno salvate. A questo punto in realtà io potrei chiudere il mio pannello delle librerie posso anche cancellare questi elementi che tanto a questo punto rimangono salvati dentro nel mio pannello dei simboli. Andiamo a vedere come possiamo disporre di questi simboli con uno strumento molto particolare che è lo spray dei simboli. Se andiamo a cliccare su questo simbolo e teniamo premuto vediamo che abbiamo la possibilità di tirarlo fuori dal pannello. Ecco qui che abbiamo estratto il nostro pannello lo andiamo a mettere qui in basso. Il primo strumento che abbiamo all'interno di questo sottopannello è proprio lo spray dei simboli. Questo spray fa esattamente quello che il suo nome suggerisce ovvero nel momento in cui io seleziono un simbolo a mio piacere posso andare a cliccare e andrò automaticamente a incollare questo simbolo più volte all'interno del mio documento e come potete vedere c'è un quadro che delimita l'area e c'è un livello che si chiama symbol set che sta a identificare questo set di simboli che ho appena applicato. Nel momento in cui io vado a premere e trascinare come potete vedere creo diversi simboli tantissime istanze. Questo potrebbe non essere quello che voglio queste istanze potrebbero essere troppe. Per questo motivo posso andare a fare doppio clic sopra il simbolo dello strumento si apre questo pannello all'interno del quale io posso diminuire il diametro. Diciamo per esempio che io gli vado a dare un diametro di 30 mm e vado anche a diminuire l'intensità gli vado a dare un'intensità di 5. A questo punto vedete che se clicco e trascino sto sempre generando una serie di simboli ma sono di meno rispetto a prima sono più radi e quindi questo mi consente di lavorare meglio. La velocità con cui trascino determina anche la distanza tra un simbolo e l'altro infatti se vado molto lento i simboli saranno vicini se vado molto veloce i simboli saranno più lontani. Una volta che ho generato un po' di simboli posso andare a utilizzare gli altri strumenti. Infatti subito di fianco abbiamo il Symbol Shifter Tool. Questo strumento serve a spostare i nostri simboli quindi una volta che sono stati posizionati io posso andare a spostarli facendo dei click e dei brevi drag posso spostare i miei simboli nella posizione che desidero. Lo strumento successivo è lo Scruncher Tool che dovrebbe fare più o meno la stessa cosa nel senso che dovrebbe accorpare due simboli. Questo strumento io non lo uso mai perché trovo molto più pratico utilizzare semplicemente lo strumento sposta. Il quarto strumento che andiamo a vedere è il Sizer Tool. Questo strumento come dice il nome stesso serve a ingrandire o rimpicciolire i nostri simboli quindi io posso andare a variare le dimensioni di tutti questi pezzi. Nel momento in cui clicco sopra un simbolo lo sto ingrandendo. Se tengo premuto il tasto alto option vado invece a rimpicciolire i simboli. Ovviamente lavorerò solamente sui simboli che stanno all'interno dell'area del mio pennello. Una cosa interessante è che questo pennello lavorerà su tutti i simboli che sono inclusi all'interno del suo diametro per cui nel momento in cui io vado magari ad avvicinare due simboli vedete che nel momento in cui il mio pennello li sta toccando entrambi li sposterà entrambi. Per cui nel momento in cui io vado a ridimensionare due elementi che stanno all'interno dell'area del mio pennello li sto ridimensionando entrambi. Proseguiamo e abbiamo il Symbol Spinner Tool. Questo come avrete già intuito serve a ruotare gli elementi quindi io posso posizionarmi e andare a ruotare manualmente tutte le istanze dei miei simboli. Il prossimo strumento è il Symbol Stainer. Questo è molto interessante perché nel momento in cui io ho la mia tavolozza dei colori e ho selezionato il Symbol Stainer Tool posso andare a selezionare un colore e nel momento in cui clicco sopra una delle istanze andrò a modificare il colore solo di questa istanza. Ovviamente proprio come prima se l'area del mio pennello copre più di un oggetto andrò a modificarle entrambe. A seconda di dove mi posiziono rispetto al mio oggetto e rispetto all'area del mio pennello l'effetto potrebbe essere più o meno marcato nel senso che se l'area del mio pennello copre per intero l'oggetto l'istanza in questione prenderà in pieno il colore. Mentre se il mio oggetto è solo parzialmente all'interno dell'area del mio pennello vedete che il colore che prende sarà di meno. Proseguiamo con il Symbol Screener. Questo è uno strumento interessante perché fondamentalmente mi permette di creare un effetto atmosferico in maniera tale che gli oggetti risultino più trasparenti tanto quanto più sono lontani. Quindi io andrò a utilizzare questo effetto prevalentemente sulle foglie più lontane mentre non lo userò sulle foglie più vicine. Se lo utilizzo nel mezzo del mio oggetto l'effetto è più marcato mentre se lo prendo solo parzialmente l'effetto è minore proprio come abbiamo visto in precedenza. L'ultimo strumento di questa tab, il Symbol Styler Tool, serve sostanzialmente ad applicare degli stili ai simboli che abbiamo importato. Ora per capire a cosa serve quest'ultimo strumento andrò a selezionare una library che è questa dei bottoni e delle barre web. Come potete vedere qui abbiamo tutta una serie di risorse ora io vado a importare semplicemente un bottone giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Nel momento in cui io importo questa risorsa posso andare a selezionare il Symbol Styler Tool, posso andare a selezionare degli stili grafici e ora va detto che all'interno degli stili grafici abbiamo anche qui una library e qui possiamo selezionare per esempio un'opzione bottoni. Quindi qui abbiamo tutta una serie di opzioni che possiamo trascinare all'interno del nostro pannello e a questo punto le possiamo applicare al nostro bottone e come potete vedere cambia drasticamente lo stile che andiamo a impostare. Quindi a seconda dello stile che selezioniamo possiamo andare a dare uno stile completamente diverso al simbolo che abbiamo inserito. Ovviamente questo non sempre dà dei risultati sperati però se abbiamo scelto bene la nostra risorsa potrebbe darci esattamente quello di cui avevamo bisogno. Vedete quante forme diverse è possibile creare con gli stili? Ovviamente non è uno strumento sempre precisissimo perché si basa anche un pochettino sulla casualità delle forme che andiamo a trovare. Quindi non è detto che troviamo esattamente la forma che ci serve tuttavia è una cosa con cui è possibile sperimentare e che può anche riservare delle soddisfazioni. Ora già così questo strumento appare abbastanza interessante ma adesso andiamo a vedere qualcosa di un pochino più elaborato. Infatti noi possiamo applicare qualche istanza di questo simbolo dopodiché possiamo andare a selezionare un secondo simbolo e possiamo andare ad applicare qualche istanza anche di questo secondo simbolo. Possiamo andare a selezionarne un terzo e andare a dare delle pennellate in maniera da applicare qualche istanza anche di questo nuovo simbolo e come vedete adesso i nostri simboli cominciano a spaziarsi da soli nel momento in cui li andiamo a inserire. Ora abbiamo selezionato l'ultimo simbolo che abbiamo utilizzato e questo significa che possiamo usare gli strumenti per agire solamente su quest'istanza di questo simbolo. All'interno del nostro simbol set stiamo agendo solamente su questa maple leaf large. Quindi stiamo agendo su questa ma non sulle altre. Vedete che se io clicco sugli altri simboli non succede niente mentre succede qualcosa soltanto se clicco su quello che ho selezionato. Quindi potrei per esempio andare a ruotare lievemente solamente queste foglie dell'ultimo simbolo che ho selezionato oppure potrei andare a colorare solo qualcuna di queste foglie lievemente se clicco fuori pienamente se clicco dentro. Potrei andare a colorarle anche a due a due perché dipende se sono vicine. Vedete che prendono tutte la stessa colorazione ma con intensità diversa a seconda se io clicco nel mezzo o se clicco lievemente fuori. Quindi già per questo è molto interessante. Potrei anche decidere di andare a ridimensionare solamente la mia foglia più gialla. Quindi potrei andare a cliccare solamente su queste senza preoccuparmi di stare prendendo anche le altre perché ho selezionato solamente questo livello. Tuttavia potrei anche selezionarle tutte e tre e a questo punto invece starei agendo su tutto quanto il mio simbol set. Quindi come potete vedere questo è uno strumento molto potente perché in brevissimo tempo ci permette di creare dei fondali, degli artwork di questo tipo includendo dei simboli che sono già presenti all'interno delle librerie di illustrator e ci consente quindi di andare a realizzare in brevissimo tempo delle trame che possiamo utilizzare all'interno dei nostri progetti. Andiamo a questo punto a fare un velocissimo ripassino. Tab dei simboli, andiamo ad aprire la nostra library, andiamo a scegliere che cosa vogliamo utilizzare e io adesso potrei importare un po' di risorse assolutamente a caso giusto per avere qualcosa da utilizzare. A questo punto posso chiudere la mia library. Adesso vado a prendere i miei simboli e li importo all'interno del mio progetto. Vedete che quando li importo in questa maniera vanno a posizionarsi su tre livelli differenti. Vado a ridimensionarli tanto sono vettoriali quindi non si rovinano. A questo punto io posso andare a prendere il mio stainer tool. Se questa giamma per esempio mi servisse verde non dovrei fare altro che andare a selezionare il colore che voglio qui dalla mia tavolozza. Dopodiché con questo simbolo selezionato posso andare a dargli un paio di clic in maniera tale da avere il mio simbolo colorato del colore che voglio. Posso andare a selezionare il rosso e cliccare su quest'altro ma vedete cosa succede? Sto ancora colorando questo quindi faccio annulla. Perché sto colorando questo? Perché ho selezionato questo. Quindi vado a selezionare il simbolo giusto e a questo punto posso colorarlo come meglio credo. Nuovamente vado a selezionare il mio terzo simbolo. Vedete che se lo seleziono con lo strumento sposta si seleziona automaticamente e a questo punto posso scegliere un altro colore ancora e andare a colorare anche questo. Ora quello che abbiamo visto fin qui è abbastanza interessante di per sé. Andiamo a vedere un'applicazione molto pratica di questo strumento. Noi potremo selezionare una risorsa per esempio questa farfalla. Potremo andare a selezionare il nostro spray tool e potremo andare a disegnare alcune farfalle all'interno del nostro artwork. Ora questo qui è un primo simbol set. A questo punto andiamo anche ad allinearlo al centro della nostra tavola. Adesso noi possiamo andare a ruotare un pochino queste farfalle in maniera tale da dargli un pochino di realismo che non siano proprio tutte impalate. Possiamo andare a ruotarle qualcuna da una parte qualcuna dall'altra. Possiamo anche pennellare sopra perché così ne prendiamo più di una. Una volta che abbiamo fatto tutto questo possiamo andare a deselezionare il nostro simbol set. Possiamo tornare a selezionare lo spray tool e possiamo andare a pennellare delle altre farfalle. Abbiamo creato un secondo simbol set. A questo punto possiamo andare a prendere il nostro sizer tool per esempio e andiamo a ingrandire le farfalle di questo secondo simbol set. In questo modo queste farfalle saranno più grandi e più vicine rispetto a quelle del primo simbol set. Ne consegue anche che a questo punto noi potremo selezionare il primo simbol set quindi quello con le farfalle piccole. Potremo andare a selezionare il nostro screener tool e potremo andare a far sì che le farfalle più lontane risultino anche un pochettino meno opache quindi che sembrino più distanti anche per una sorta di effetto atmosferico proprio in questa maniera. Parimenti potremo andare a prendere il nostro stainer tool e potremo andare a pitturare qualcuna delle farfalle. Qualcuna di un colore, qualcuna di un altro. Andiamo a selezionare il secondo set. Andiamo a dare una coloratina anche alle farfalle che si trovano sullo sfondo. Ecco che come vedete in men che non si dica se l'avessimo fatto bene perché io non sono stato qui a dedicargli il tempo che avrei dovuto ma se avessimo voluto farlo bene avremmo potuto creare uno sciame di farfalle o un qualunque altro set di icone sempre prese all'interno della nostra library avremmo potuto adornare il nostro progetto in maniera assolutamente rapida con delle risorse vettoriali che in questo caso sono quelle già presenti all'interno di Illustrator. Ovviamente è possibile creare dei set di simboli semplicemente scaricando delle risorse anche da internet. Benissimo abbiamo lasciato momentaneamente Illustrator e ci troviamo all'interno del nostro browser. Il sito di riferimento che vi lascio è freepik.com. All'interno di questo sito abbiamo fatto una ricerca, abbiamo cercato butterfly, abbiamo selezionato risorse vector, abbiamo selezionato risorse gratuite. Ecco che andiamo a cliccare su questa risorsa che mi sembra carina, io vado a scaricarla e vado a eseguire un free download. Ovviamente queste risorse sono gratuite ma con l'attribuzione. Io qui non ho bisogno di fare attribuzione perché vedete benissimo tutti che cosa sto facendo ed è solamente per fini didattici. A questo punto ho scaricato la mia risorsa che si trova quindi zippata in una cartella. Vado quindi a unzippare il file con il mio archivio utility ed ecco che mi ritrovo con una cartella che a questo punto conterrà probabilmente un EPS. In questo caso contiene un EPS, una I e un JPEG. Ci hanno dato tutte le risorse di cui potevamo avere bisogno. Vado ad aprire il file di Illustrator e vediamo se è una versione compatibile col mio sistema. Ok ci sono un po' di problemi di compatibilità per quanto riguarda i profili incapsulati però per il resto siamo assolutamente a posto. Ora qui abbiamo la filigrana di Freepik che io vado a eliminare. Vado a eliminare anche lo sfondo. Vado a eliminare di fatto tutto tranne le mie risorse. A questo punto ovviamente io posso andare a selezionare la farfalla che volevo o anche tutte. In questo caso vado a toglierle dal gruppo così le posso gestire. Vado a prendere la farfalla che mi interessava e vado a posizionarla all'interno dei miei simboli. Ma prima torno sul documento in cui mi trovavo prima. Quindi sono qui con tutte le mie farfalle. Incollo il mio elemento vettoriale dal documento che ho appena scaricato. A questo punto vado a inserirlo all'interno dei miei simboli. Gli vado a dire simbolo statico. Gli vado a dire grafica. Stavolta non la nomino neanche perché mi sto impigrendo. A questo punto posso cancellare questa istanza e nuovamente posso prendere il mio symbol sprayer tool e posso andare a incollare delle nuove istanze di questa farfalla. A questo punto potrei per esempio spostarne qualcuna perché queste due le ho messe decisamente troppo vicine. Quindi sposto sposto sposto. Potrei andare a ruotarne qualcuna. Potrei andare a ridimensionarne qualcuna. Ecco ricordiamo che è clic per ingrandire e alte clic per rimpicciolire. Quindi ecco tutte le cose che si possono fare per importare delle nuove risorse, trasformarle in simboli e gestirle all'interno del mio pannello. Ora se io volessi dare uno screen solamente alle farfalle più lontane ovviamente lo posso fare. Basta che seleziono screen e vado a cliccare avendo selezionata la risorsa corretta solamente sulle farfalle più lontane. Ecco che le mie farfalle più lontane avranno un po' di trasparenza mentre quelle vicine saranno più presenti. Ora quello che abbiamo visto fin qui è abbastanza interessante di per sé perché ci permette di creare degli artwork in brevissimo tempo utilizzando delle risorse gratuite che sono già contenute all'interno delle librerie del nostro applicativo. Tuttavia adesso andiamo a selezionare i nostri simboli e li cancelliamo perché andiamo a vedere cosa possiamo fare con questo strumento per importare delle risorse nostre. Andiamo per esempio a inserire un logo. In questo caso questo è il logo di Flarescape. Nel momento in cui io ho un elemento vettoriale all'interno del mio progetto di illustrator posso prenderlo e trascinarlo all'interno del mio pannello dei simboli. Mi verrà restituita questa finestra che mi chiederà di nominarlo. Io adesso lo nomino. Il nome è assolutamente indicativo quindi importa veramente molto poco. Potete anche non rinominarli se non ne avete voglia. Export type in questo caso si tratta di una grafica. Non ho ancora mai utilizzato l'opzione movie clip. Io utilizzo sempre graphic per cui proseguiamo col flusso di lavoro che mi è più congeniale. Ora qui possiamo scegliere due tipi di simbolo ovvero il dinamico e lo statico e abbiamo una registrazione che lasceremo sempre centrata ovviamente. Noi adesso andiamo a selezionare statico e vedremo più tardi il perché. Andiamo a dirgli ok e vedete che adesso il nostro logo si è trasformato in un simbolo che chiaramente si chiama come l'abbiamo nominato. Ora possiamo andare a eliminare quest'istanza perché l'abbiamo salvato all'interno del nostro pannello simboli. Ogni volta che vogliamo richiamare questo oggetto possiamo semplicemente trascinarlo all'interno del nostro progetto. Potremmo anche utilizzare lo spray dei simboli però avrebbe poco senso perché a questo punto ci ritroveremo con tante istanze del nostro logo e questa non è quasi mai la cosa che desideriamo. A questo punto come potete vedere il nostro logo il nostro simbolo si è trasformato in un livello unico anche se era composto da diversi pezzi in questo momento risulta essere un pezzo unico. Nel momento in cui andiamo a esportare un logo finito non è mai una buona idea lasciarlo collegato al pannello dei simboli in questo modo per cui andremo su oggetto e espandi. In questo modo andiamo a estrarre il nostro logo dalla libreria dei simboli e quindi vedete che torna a essere una cartella che contiene tutti i suoi vari pezzi. Una volta che noi l'abbiamo estratto possiamo andare per esempio a ricolorarlo per cui io adesso andrò a colorarlo di bianco. Vedete che se premo command y vedo l'outline e quindi questo qui è l'outline che io ho ottenuto che in questo momento è bianco. Io questo outline posso ovviamente importarlo nuovamente per cui andrò a chiamarlo logo white e di nuovo gli dirò che deve essere statico e di nuovo gli dirò che deve essere una grafica. Ed ecco qui il mio logo bianco. Adesso esco da questa modalità di visualizzazione ripremendo command y e a questo punto posso andare a cancellare questa istanza del mio simbolo. Ora lavoriamo fuori dalla tavola così li vediamo bene entrambi. Io posso avere qui entrambi i miei simboli uno nella sua istanza nera e uno nella sua istanza bianca ma supponiamo per un momento che io abbia creato un documento che contiene diverse istanze del mio simbolo nero per esempio e supponiamo che questo nero che non è un nero pieno ma è un nero 222 se ricordo bene non mi vada più bene. A questo punto se non ho voglia di tornare a sostituire tutte le istanze del mio simbolo all'interno di un progetto anche abbastanza elaborato posso agire semplicemente in questo modo. Vado a selezionare un'istanza qualsiasi del mio simbolo e la espando. Quindi la sto scollegando dal mio pannello dei simboli. A questo punto posso colorarla a differenza di queste perché se io vado a provare a colorare un'istanza del mio simbolo vedete che non succede niente. Se invece vado a colorare un'istanza del mio simbolo che ho scorporato quindi che ho espanso a questo punto mi è possibile impostare il colore che desidero. Quindi vado a dargli per esempio un nero pieno e vedete che la differenza si vede subito infatti quest'istanza ha cambiato colore mentre le altre sono bloccate. A questo punto per andare a sostituire il colore su tutte queste istanze io non faccio altro che prendere questo simbolo quello a cui ho cambiato il colore quello scorporato che infatti contiene tutti i livelli. Vado a trascinarlo all'interno del mio pannello simboli ma non vado ad aggiungerlo. Se io andassi semplicemente a inserirlo all'interno del pannello e adesso rilasciassi andrei a creare una nuova istanza del mio simbolo con un colore diverso ma io invece voglio sovrascriverlo a quelli già presenti per cui lo prendo vado sopra al simbolo vecchio e tengo premuto alt option. Vedete che nel momento in cui premo alt option si evidenzia la casella del simbolo su cui sono posizionato. Se io adesso lascio andare vedete che ho sovrascritto con successo il mio simbolo e quindi ho modificato il colore di tutte le sue istanze. Bene parliamo ora dei simboli dinamici. Supponiamo di avere qui l'ennesima forma vettoriale e di importarla all'interno del nostro pannello simboli. Questa volta andremo a selezionare grafica e andremo a dirgli simbolo dinamico. Andremo anche a rinominarlo ed ecco qui la differenza si vede subito perché i simboli dinamici hanno un piccolo segno più in basso a destra. Ora nel momento in cui io vado a importare questa risorsa e vado anche a importarla più di una volta con lo strumento selezione diretta posso andare a selezionare dei pezzi del mio simbolo e posso andare a colorarlo in maniera diversa senza alterare il simbolo originario. Quindi posso fare qualcosa che prima avrei fatto fatica a fare avrei dovuto utilizzare il symbol stainer tool ma in questo caso invece posso andare semplicemente selezionando dei pezzi del mio simbolo a ricolorarli singolarmente e questi simboli rimangono indipendenti sono sempre linkati al mio simbolo dinamico ma mi consentono questa flessibilità che mi permette di andare a selezionarne singoli pezzi che possono essere ricolorati a mio piacere. Io posso anche selezionare tutto quanto e andare a selezionare un colore già presente all'interno di uno dei miei due simboli ed ecco che li ho riportati tutte e due perfettamente alla normalità. Ora una cosa che non ho ancora menzionato nel momento in cui noi abbiamo un simbolo all'interno del nostro artwork e andiamo a cancellare quel simbolo vedete che ci verrà richiesto se vogliamo espandere i simboli presenti oppure cancellarne tutte le istanze. In questo caso se io lo espando il mio simbolo rimarrà presente all'interno del mio artwork ma tornerà ad avere i livelli separati mentre se lo cancello scomparirà completamente. L'ultima cosa che vi faccio vedere è che una volta che abbiamo importato il nostro set in questo caso per esempio ho importato i miei loghi nelle due istanze quella nera e quella bianca ho la possibilità cliccando qui sull'hamburger di andare a salvare una libreria di simboli. In questo caso sto andando a salvare una libreria che contiene solamente questi due simboli è importante ripulire dai simboli precedenti se no ogni volta che salviamo un set stiamo andando continuamente a salvare le stesse istanze. Questi sono file vettoriali quindi non pesano tanto però è meglio non continuare a creare dei doppioni. Questo set va a essere salvato automaticamente dentro nella cartella simboli che è all'interno delle cartelle di sistema dentro nel nostro computer. Possiamo chiamarlo come vogliamo per esempio e una volta che l'avremo salvato con successo all'interno delle nostre cartelle di sistema potremo andare a recuperarlo semplicemente cliccando user defined ed ecco qui che abbiamo la nostra libreria con i nostri loghi che possiamo richiamare in qualsiasi momento e comparirà proprio come una delle librerie che abbiamo aperto in precedenza quindi avremo al suo interno tutti i simboli che decidiamo di volta in volta di andare a caricare all'interno di questa library. Ora l'ultima cosa che voglio mostrarvi oggi è come questi simboli abbiano un'applicazione molto pratica nel momento in cui andiamo a utilizzarli in ambito 3d andiamo a fare una rapida dimostrazione io adesso creo una forma qui è rimasto in memoria il gradiente che avevo preso dai simboli adesso gli vado a dare un colore normale e umano in maniera tale che riusciamo a vedere quello che stiamo facendo. Una volta che noi abbiamo una forma vettoriale qualsiasi possiamo andare su effetti 3d nel caso di un quadrato gli andremo a dire extrude and bevel quindi avremo tutta una serie di opzioni che ci permettono di trasformare la nostra forma in 3d vado ad aumentare le nostre opzioni quindi possiamo lavorarci un pochettino di più blend steps a me di solito piace lavorare almeno con 100 blend steps in questo caso non è prettamente necessario ma preferisco averli extrude depth cioè la profondità del nostro scavo ne vado a dare un pochino adesso andiamo a selezionare isometrico così abbiamo il nostro cubo posizionato più o meno in questa maniera non è un cubo perfetto ovviamente ma si fa quel che si può la cosa interessante è che a questo punto noi abbiamo la possibilità di cliccare sul bottone map art all'interno di questo bottone possiamo selezionare una delle sei facce del nostro cubo e vedete che qui abbiamo un pannello simboli all'interno dei quali possiamo selezionare i simboli che abbiamo attualmente all'interno del nostro pannello per cui io posso andare a collocare il mio logo all'interno di una delle facce del cubo dopodiché posso andare a selezionare un'altra delle facce del cubo che in questo caso è dietro quindi non sarà visibile ecco in questo modo questa linea rossa mi segnala che ho selezionato l'altra faccia visibile posso andare a posizionare qui l'altra istanza del mio logo in questo modo posso avere il cubo che riporta i miei loghi sui due fronti posso andare poi a selezionare questa è la faccia sotto posso continuare a procedere fino a selezionare la faccia sopra e in questa faccia potrei mettere per esempio una farfalla che posso andare a ingrandire in maniera tale che occupi degnamente lo spazio questa è un'opzione estremamente interessante perché come vedete mi permette di collocare i miei simboli sopra una forma tridimensionale mettendoli già in prospettiva a questo punto se io vado a selezionare il mio livello e faccio click all'interno del pannello apparenza faccio click su 3d extrude embevel posso tornare a agire sulla mia forma e posso spostarla nella posizione che voglio quindi è un'opzione molto molto utile per posizionare le mie istanze dei simboli che ho salvato all'interno di uno spazio tridimensionale è possibile fare anche qualcosa di più perché io potrei andare a creare questa volta un cerchio potrei andare a creare un quadrato che si sovrapponga per metà chi è stato attento ai miei video precedenti sul pannello elaborazione tracciati avrà già capito che in questa maniera ricaviamo un semicerchio ora è possibile trasformare un semicerchio in un oggetto 3d con l'opzione revolve andiamo a vedere l'anteprima e come vedete abbiamo creato una sfera di nuovo blend steps gliene diamo almeno 100 così vedete che eliminiamo il bending che si trova sopra il riflesso della nostra sfera quello che ci interessa ovviamente è fare nuovamente ma part in questo caso la superficie è una sola perché la sfera non ha lati non ha angoli andiamo a selezionare per esempio la nostra farfalla andiamo a ingrandirla un pochino in maniera tale che occupi lo spazio visibile la parte bianca di questo grafico è la parte che noi riusciamo a vedere della nostra sfera la parte scura è il lato in ombra che non vediamo ora così potrebbe sembrare che abbiamo fatto una solenna porcata ma quello che io volevo farvi vedere era un'altra cosa ovvero nel momento in cui noi abbiamo applicato il nostro simbolo 3d a una forma possiamo andare attraverso l'opzione map art possiamo andare a dirgli per esempio shade artwork quindi possiamo andare a mettere un'ombra 3d al di sopra del nostro simbolo in maniera tale che aderisca ancora meglio alla nostra forma tridimensionale e ancora di più possiamo dirgli invisible geometry in questo modo come potete vedere abbiamo posizionato il nostro simbolo sopra un oggetto 3d e a questo punto possiamo spostarlo liberamente nello spazio mantenendolo ancorato a quell'oggetto quindi fondamentalmente questa è una cosa che può essere molto molto utile quando vogliamo collocare un logo in una posizione come questa andiamo proprio a provarci riapriamo il nostro documento torniamo su map art e andiamo a rimuovere la nostra farfalla e andiamo a posizionare il nostro logo lo mettiamo nuovamente nell'area visibile vado a rimpicciolirlo un pochino così ci rendiamo ben conto come potete vedere grazie all'opzione shade artwork abbiamo un'ombra che sta al di sopra del nostro logo che ci consente di vedere bene che c'è una curvatura e grazie all'opzione invisible geometry il nostro cerchio scompare lasciando solamente il nostro logo che a questo punto sembra accartocciato sopra una forma circolare questa è un'opzione che si usa ogni tanto nel logo design e si usa per la realizzazione di mockup è un'opzione che è possibile esclusivamente grazie al pannello simboli perché le risorse che vengono collocate al di sopra dei nostri oggetti tridimensionali all'interno di illustrator devono obbligatoriamente provenire da questo pannello bene con questo è veramente tutto io spero di avervi dato una panoramica abbastanza esauriente di tutto quello che è possibile fare con questo meraviglioso pannello all'interno dell'applicativo di illustrator non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che vado di volta in volta a implementare lasciate un like a questo video se avete imparato qualcosa e se c'è qualcosa che vorreste vedere approfondito vi aspetto nei commenti a questo punto vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale